La vera Oktoberfest ti aspetta a Caggiano! Dall'11 al 20 ottobre i migliori prodotti tipici bavaresi e della foresta nera con fiumi di birra Rotaus e Wieninger e tanta musica dal vivo per l'evento dell'anno, l'Octoberfest! Prima edizione della festa della birra di Caggiano all'Octoberfest trovi Bustel, Stinky, Goulash, Brezel e tante altre specialità per brindare e festeggiare birra, specialità culinarie, musica, eventi all'Octoberfest il 19, direttamente da Canale 5 arriva Vascom, la Vasco Rossi Tributo Band Oktoberfest, la prima festa della birra a Caggiano, Salerno, in località Mattina dall'11 al 20 ottobre, sabato e domenica, aperto dalle 12